L'apertura del nostro notiziario ci porta purtroppo a dover registrare un altro incidente stradale mortale con un 36enne di Atri, Sergio Martella, che è morto poco dopo le 7 in un incidente stradale. Secondo la prima ricostruzione della dinamica, l'auto, che era guidata dal 36enne, padre di una bimba piccola, mentre percorreva la strada provinciale 27A in direzione Cerni di Pineto, è uscita da una curva finendo fuoristrada. Dopo aver percorso un centinaio di metri e abbattuto alcuni cartelli e pali della segnaletica stradale, il violento impatto è avvenuto contro il moretto di recinzione di un'azienda. All'arrivo dei mezzi di soccorso, il personale sanitario del 118 di Roseto degli Abruzzi non ha potuto far altro che constatare il decesso del conducente dell'auto. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre il corpo del 36enne incastrato nell'auto. Sul luogo dell'incidente sono giunte anche pattuglie della polizia stradale di Giulianova e dei carabinieri per i rilievi dell'incidente e la regolazione del traffico veicolare.